Se il caso Raia Nera Pescara ora ruota attorno alla possibilità di destinare una somma superiore ai 2 milioni e mezzo di euro da parte della Regione, cifra insufficiente per mantenere i collegamenti che erano valsi quasi i 600 mila utenti in Abruzzo, oggi la proposta della Regione si concentra proprio su quelle norme da interpretare e applicare. E così, dopo riunioni e consigli di amministrazione, il consigliere delegato ai trasporti, D'Alessandro, presenta i tre punti sui quali la Regione ha deciso di concentrare la propria strategia di salvataggio. Innanzitutto una legge regionale pluriennale che presenteremo in uno dei prossimi consigli, che consente un finanziamento stabile all'aeroporto e non a singhiozzo. La seconda legge è la ricapitalizzazione della saga conferendo beni immobili, che consente di raggiungere un obiettivo che Enac chiede all'aeroporto per poter operare. La terza iniziativa, che è a carattere più politico-istituzionale, riguarda il lavoro che stiamo facendo in Regione e in Europa, non estante ci siano chi di cognome fa aiuto ma non aiuta, la Regione Abruzzo, per superare anche dei vincoli imposti dal legislatore europeo e dalla giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale. Cioè non si può più finanziare come prima. Trattative in corso, come annunciato dal capo di Ryanair, la volontà è di trovare una soluzione che metta tutti d'accordo e questa soluzione richiede denaro e soprattutto poco tempo la scadenza è a ottobre. Ma non hanno dato una scadenza fissa, però noi subito dobbiamo rispondere con questi atti e dimostrare loro che c'è la disponibilità per altri operatori privati che vogliono accompagnare l'intervento della Regione. Dopodiché c'è un piano industriale che va avanti e che noi stiamo finanziando nella legittimità perché ricordo che noi due volte siamo intervenuti finanziariamente su Saga, tutte e due le volte non abbiamo avuto corte costituzionali che le hanno dichiarate illegittime quindi perfettamente nella norma. Così vogliamo continuare a fare sapendo che ci sono questi vincoli insuperabili.